Buongiorno a tutti, lui è François Jackson, responsabile della pastorale giovanile d'Aiti e oggi ci racconta cos'è per lui il Presinodo. Buongiorno, io sono François Jackson e io vengo da Aiti, sono contento di partecipare alla raccoglie della 15e Assemblée Ordina del Senato dei Vecchi in ottobre prossimo. Questa raccoglie mi permette di fare conoscenza delle altre realtà dei giovani di l'Eglise e del mondo. Allora, spero che questa raccoglie mi permette di fare conoscenza di aiutare a un documento che conviene a tutti. Allora, sono contento di essere conoscenza dei giovani che partecipano a questa raccoglie, è già un ato per l'Eglise. Merci François, ambientò. Merci, je vous en prie. Buon Presinodo a tutti. Merci.